Eccoci qua, siamo con la nostra Penelope e la Teona ET, la Teona ET, versione ET. Ciao a tutti! Sembra lo Jedi, sai quello del Guerra Stellare? Lo Jedi, il simbolo Jedi. Ha anche il cappuccetto, la Teona, la Teona, la Teona. Non ci posso credere. Diciamo che non apprezza questo cappottino per le sue qualità, eppure la tiene calda perché nonostante i 30 gradi di aria condizionata sta tremando. Ma come mai è così fredda perché è senza peli? Eh sì, no, ma loro hanno delle temperature incredibili. Vedi, è un po' infastidita dal cappottino, giusto un po'. Eh beh, c'è il cappottino e c'è il pannolino. Stavo, ero con lo sguardo in fissità perché ho visto la Fru Fru traballare sul mobile, che ha delle cose di vetro. Hanno appena fatto saltare la testa a San Francesco, la Teona. Ah, bravo! E tra l'altro non ho più trovato la testa, ho solo trovato San Francesco. Se la sarà mancata la testa. Non lo sa dov'è perché ho fatto le pulizie insieme, ma non l'ho trovata, quindi non lo so. E noi ci vediamo con la nostra Penelope Wengo, che trovate anche su Instagram, Penelope Wengo, bravissima esoterista cartomante. Ci vediamo lunedì, lunedì, per una stesa fantastica, con la nostra Penelope e la Teona, la Teona incappucciata. La Teona incappucciata. Ciao Penelope. Ciao.